Musica Edizione della sera del Tg Versilia, buonasera e bentrovati. In queste ore partiranno a Massarose lavori tanto attesi per le tubazioni di piano di momio dove da anni si verifica il fenomeno dell'acqua torbida, l'acqua sporca nei rubinetti di casa e intanto scoppia un piccolo caso sulla presenza della ferro nelle acque delle scuole. Acqua, sottolinea la ASL, assolutamente potabile ma c'è chi chiede che si faccia chiarezza. Sentiamo il servizio con le rassicurazioni del sindaco. La legge di riferimento impone che l'acqua fornita dal gestore destinata al consumo umano sia salubre e pulita. La normativa italiana, che recepisce le direttive europee di settore, prevede anche che l'acqua distribuita tramite un pubblico acquedotto sia sottoposta a controlli adeguati che ne garantiscano la conformità ai valori di parametro. I controlli fatti dalla nostra azienda sanitaria su un campione di acqua destinata al consumo umano prelevato presso la fontana pubblica a piano di momio dicono che il prodotto è potabile ma visto il valore del parametro del ferro contenuto nel prodotto, questo non è idoneo per un consumo prolungato nel tempo. Per garantire la salubrità dell'acqua nella frazione di piano di momio nel comune di Massalosa l'amministrazione cittadina fa sapere che domani, mercoledì, Gaia inizierà i lavori necessari ad affrontare adeguate opere di manutenzione straordinaria sull'intera rete idrica nei pressi della scuola dell'infanzia primaria di piano di momio. Piano di momio è la zona del comune di Massalosa dove ha la peggior qualità dell'acqua perché si trova proprio nella fase finale delle tubazioni, l'acquedotto è alimentato completamente dalla zona di Chiesa quindi è la zona più periferica. Farà quella procedura di pulizia delle tubazioni, lui utilizza ghiaccio e sale per poter asportare tutti quelli che sono gli elementi incrostati sulle tubazioni per renderle pulite e in altre zone poi farà un intervento di sostituzione perché quella tecnica non può essere usata. Noi ci aspettiamo che con questo intervento si migliori notevolmente la qualità dell'acqua devo dire che è frutto anche di una pressione e di un interesse da parte dell'amministrazione in questi anni verso Gaia che l'abbiamo sempre interpellata, spinta e gli abbiamo scritto affinché si facesse delle azioni concrete. E sul caso della presenza eccessiva di ferro nelle acque delle scuole ma in particolare soltanto in un rubinetto rilevato dalla ASL è il consigliere comunale di opposizione Alberto Coluccini ad aver presentato una mozione in consiglio comunale per chiedere di sospendere immediatamente la somministrazione di acqua in brocca alla scuola di Piano di Momio a meno fino a che, scrive nella mozione il consigliere di minoranza, fino a che il Comune non abbia ottemperato e fatto i lavori richiesti dalla ASL e non ci sia la certezza che gli sforamenti del parametro del ferro non si ripresentino ciclicamente. Questa è la posizione di Alberto Coluccini. Torniamo adesso alla pagina politica con le reazioni, il giorno dopo le amministrative a Seravezza, la vittoria di Riccardo Talabella, candidato del centrosinistra, momento di riflessione in casa centrodestra, secondo Massimo Mallegni, coordinatore vice regionale di Forza Italia, i candidati della lista di Andrea Giorgi avrebbero danneggiato il candidato di area centrodestra, ovvero Riccardo Cavirani. Sentiamo. La lista del candidato Giorgi, che sicuramente lui come figura appartiene a quell'area di centrosinistra, ma la sua lista non è certamente una lista di centrosinistra, anzi i rappresentanti più importanti, coloro i quali hanno preso voti più significativi, non sono certo di quell'area politica o quantomeno non appartengono a quei partiti che in quell'area politica oggi fanno la parte del leone, questo sia chiaro. Non nasconde la delusione Massimo Mallegni all'indomani delle elezioni amministrative, che a Seravezza hanno visto una terza posizione per il candidato del centrodestra, Riccardo Cavirani, danneggiato, secondo il vice coordinatore regionale di Forza Italia, dalla candidatura di Andrea Giorgi, che ha inserito in lista molti esponenti di area moderata. Troppi personalismi, giustifica Mallegni, che dopo il flop di Seravezza e la sfida ancora aperta di Alto Pascio, feudo del coordinatore provinciale Maurizio Marchetti, dove per la prima volta si andrà al ballottaggio, pensa alle elezioni del 2017 che vedranno al voto Camaiore e Forte Remarmi, due comuni tradizionalmente vicini al centrodestra. L'obiettivo è quello di lasciare in ogni caso che i territori si esprimano, perché sarebbe veramente fuori luogo che i vertici e le direzioni regionali dei partiti indicassero loro come avveniva nel passato i vari candidati a sindaco, quindi è importante che il territorio si esprima sino ad arrivare magari alla definizione di un passaggio con le primarie, che sarebbero la cosa ovviamente migliore. Quindi abbiamo un po' di tempo di fronte, dobbiamo lavorarci e i risultati nazionali ci danno conforto. E rimaniamo proprio a Pietrasanta per la cronaca. Passeggiano sul pontile di Tonfano a bordo delle proprie automobili, multati i conducenti. È successo lo scorso 2 giugno, poco prima delle 16. Le due auto di grossa cilindrata, come vedete in questa foto, hanno imboccato il pontile, hanno percorso a Passo Duomo con le quattro frecce tutto il tragitto fino a rondò finale. Increduli i pedoni che si sono visti passare a fianco le due auto. I due trasgressori, entrambi non residenti in provincia, sono stati immortalati dalle telecamere posizionate sul pontile per vigilare sulla sicurezza. A nulla sono varsi tentativi di spiegazione da parte dei due conducenti che sono stati raggiunti dagli agenti della Municipale. Una passeggiata che costerà cara, pensate, ben 333 Euro di multa. Altre multe che fioccano sempre nel comune di Pietrasanta, ancora una volta per abbandono selvaggio di rifiuti in strada. Le telecamere ancora una volta hanno incastrato altri due furbetti di rifiuti, questa volta in via Capezzano Monte, in collina e in via Canal d'Oro, nonostante il cartello di divieto di abbandono. Uno dei due scaricava i sacchi di verde addirittura dalla propria Cabrio, come vediamo in queste foto a fianco dei bidoni. La scena è stata ripresa dalle telecamere mobili. Le telecamere sono collegate con il comando di Polizia Municipale, in tutto adesso sono 19 cittadini che sono stati beccati. In dotazione 4 impianti di videosorveglianza per il comune, dedicati al contrasto dei reati ambientali. Stiamo valutando, spiega l'assessore alla Polizia Municipale Andrea Cosci, l'acquisto di un altro paio di telecamere così da coprire contemporaneamente più aree e dunque lotta aperta a chi abbandona i rifiuti e le multe. Salgono in questo caso a 114 euro a sanzione. La cronaca, reati in calo negli ultimi 12 mesi in provincia di Lucca, un meno 8,4% secondo il bilancio dei carabinieri, dati che sono stati resi noti durante la cerimonia per i 202 anni dell'arma dei carabinieri che si è svolta in questi giorni a Lucca. Azioni sulla Versilia, in particolare contro lo spaccio di droga. Sentiamo. Reati in calo dell'8,4% in provincia di Lucca da giugno 2015 a oggi. È il dato emerso dal bilancio annuale presentato dal comando provinciale dei carabinieri di Lucca durante la cerimonia per i 202 anni dell'arma che si è tenuta in questi giorni a Lucca. Un risultato ottenuto grazie ai servizi di controllo del vicinato e porta a porta. A margine della festa sobria ed essenziale alla presenza del prefetto Giovanna Cagliostro sono stati presentati i dati dell'attività dei militari. 368 le persone tratte in arresto, 2824 quelle denunciate. Abbiamo avuto attività fregevoli sul territorio sia di contrasto alla criminalità sia attività di prevenzione che ci hanno permesso anche di dare una risposta a tutte quelle che sono le problematiche del caso. In Versilia occhi puntati sullo spaccio di droga e in particolare sulla pineta di Ponente di Viareggio. 30 persone sono state arrestate dai carabinieri nel parco cittadino da ottobre ad oggi grazie ai continui controlli giornalieri. Altri arresti per spaccio sono stati eseguiti tra Lido di Camaiore e Pietrasanta. Un mercato, quello degli stupefacenti, che ha portato un anno fa all'arresto di un marocchino accusato di tentato omicidio per aver accoltellato un connazionale per un regolamento di conti in Darsena. E infine nel gennaio scorso i carabinieri di Massarosa hanno acciuffato una banda di siciliani che aveva messo a segno due rapine in banca a Viareggio e Lido nel 2013 e 2014. Andiamo a Viareggio adesso in pineta di Levante sul viale dei Tili, disagi e anche proteste da parte di alcuni esercenti. Sentiamo perché. Si è rivolto al comune e alla Mover per chiedere la messa in sicurezza del ponticello davanti il chiosco Garofano sul viale dei Tili nella pineta di Levante. Nonostante il chiaro pericolo causato da quelle tavole rotte però nessuno è intervenuto. A questo punto il titolare del chiosco Carlo Consoli non sa proprio a chi rivolgersi per evitare che qualcuno si faccia male. È andato all'ufficio del cittadino, poi al verde pubblico, alla polizia municipale ma fino a oggi nessuno è intervenuto compresa anche la Mover ha avuto una segnalazione. In questo ultimo caso hanno risposto, sostiene Consoli, che non si tratta di un ponte relativo ad una pista ciccabile quindi non è di loro competenza. Il ponticello è pericoloso, ribadisce, specialmente per i pedoni che lo utilizzano quindi prima che accada una disgrazia chiedono che venga riparata la tavola che è danneggiata da tempo. In tema di decoro ci spostiamo a Pietrasanta. Terminati in questi giorni gli interventi in economia coordinati dall'amministrazione comunale e dall'assessorato ai lavori pubblici nell'area verde adibita a skate park alle porte del centro storico. La manutenzione è stata eseguita dalle maestranze comunali. Gli interventi sono spaziati dalla ritinteggiatura delle panchine al taglio dell'erba dal posizionamento di ghiaino stabilizzato al rifacimento dello sgambatoio sul lato mare dello skate park fino alla recinzione che corre lungo il percorso che passa sopra il sottopasso della ferrovia. Installata finalmente anche la porzione di guard rail di via Avis, Donatore di Sangue e via Marconi che era stato danneggiato in seguito ad un incidente stradale. Torniamo a Viereggio adesso per parlarvi del pomeriggio di festa che si è tenuto all'Istituto Sacro Cuore di Gesù, i poveri vecchi, un'occasione per il Presidente dell'Associazione per lanciare un nuovo appello alla città per sostenere quest'importante realtà. Vediamo. L'Istituto Sacro Cuore di Viereggio conosciuto come i poveri vecchi ha festeggiato i suoi anziani, ospiti della casa di riposo, con un bel pomeriggio di intrattenimento e con un ospite cover di Renato Zero che ha cantato e fatto ballare simpatici nonnessi. da sempre l'Istituto che attraversa un difficile momento dal punto di vista economico organizza eventi per mettere in piacevole contatto gli ospiti con il mondo che li circonda. Il Presidente del Sacro Cuore, associazione caritativa, ricorda ai versinesi che nella compilazione della denuncia dei redditi possono destinare il 5 per mille alla casa di riposo. Non è stato solo un pomeriggio di festa, spiegano gli ospiti. E' un'iniziativa veramente eccezionale che ogni anno, anzi due o tre volte l'anno si ripete e io sono sempre qui, sono sempre qui, perché più si viene e più si resta giovani. Alex ormai fa parte di noi e l'aspettiamo sempre. Mi soddisfatta, sì, vedo tutti felici, contenti. Sono molto contento perché quando veniamo qua a dare un contributo, un amore a queste persone è bellissimo, veramente. Grazie. Parliamo adesso delle concessioni per gli stabilimenti balneari. La Giunta Toscana ha approvato oggi il regolamento attuativo della legge regionale sulle concessioni dei maniali, approvata la legge lo scorso 3 maggio. Lo ha annunciato l'assessore alle attività produttive Stefano Ciuffo. Il testo è stato spiegato, è stato definito d'intesa con le associazioni dei balneari e Anci. La norma vuol far fronte a protarsi dei tempi del pronunciamento della Corte di Giustizia europea sulla deroga alle concessioni dei maniali marittime. Ed è in corso proprio in queste ore il programma all'Ido di Camaiore, un incontro importante fra tutti i balneari della Versilia per discutere e trovare una linea comune non soltanto sulla questione della direttiva Bolkestein della legge regionale, ma anche sul controverso tema della balneabilità delle acque alla luce dei due divieti di balneazione che sono scattati nel mese di maggio. I balneari versiliesi cercheranno di trovare la sintesi delle varie anime che sono all'interno del fronte. E intanto i balneari di Lido di Camaiore insieme alle scuole hanno dato vita ad una bella iniziativa, un libro realizzato dai ragazzi delle scuole che racconta la Lido di ieri e di oggi e getta uno sguardo anche verso il futuro. Vediamo. Lido di Camaiore come era una volta, come oggi e come i ragazzi la vorrebbero domani. È dedicato alla storia del territorio, il volume Sospesi tra terra e mare, nato da un'idea dell'associazione balneari e sviluppato dai ragazzi delle scuole dell'istituto Gaber. Foto, testimonianze, racconti e aneddoti per illustrare la località lidese da un punto di vista inedito, quello dei più piccoli. Il libro è stato presentato nell'auditorium dell'istituto Giorgio Gaber, oltre 260 pagine e un centinaio di immagini pubblicato da Pezzini e supervisionato da alcuni storici locali e dal corpo docenti. Il materiale l'abbiamo raccolto un po' in giro da chi ha passione a collezionare foto vecchio e del Lido, immagini del nostro paese e lo abbiamo messo insieme in questo libro che racconta un po' la storia del vecchio e del nuovo. Abbiamo chiesto ai nostri studenti di diventare per un periodo della loro vita giornalisti, fotografi e scrittori. Devo dire che a distanza di sei mesi il lavoro che hanno fatto ha superato ogni più rosa aspettativa perché si tratta veramente di un libro ben fatto che fa vedere Lido come era e Lido come è oggi. Quello che manca a Lido, secondo i giovanissimi, è un posto aggregativo multifunzionale, una grande struttura, ipotizzano anche una zona, quella dell'ex magazzino, che possa ospitare campetti sportivi e una pista da bowling, un cinema e qualche negozio e ristorante, magari anche una piscina. I ragazzi hanno persino redatto un progetto che di certo, ha assicurato l'assessore al turismo Carrai, arriverà nelle mani del sindaco. E' organizzata con l'associazione balneare per questo tessuto turistico di Lido di Camaiore e di Camaiore tutta, far vedere e un meglio vedere noi come i nostri figli, i nostri nipoti ci vedono e da che punto di vista ci vedono, per poi riuscire a trasmetterlo al meglio ai nostri turisti. Andiamo in collina, interrotto il percorso della via Francigena in località Regnalla, siamo tra Pietrasanta e Camaiore a causa di un movimento franoso che ha reso un breve tratto impercorribile. Il movimento franoso è stato causato dalle forti piogge che si sono abbattute negli ultimi giorni, già identificato il percorso alternativo, una sorta di bypass che l'amministrazione di Pietrasanta ha opportunamente segnalato per informare i pellegrini in viaggio. i camminatori dovranno proseguire sulla via Sarzanese e riallacciarsi al tratto della via Francigena in via Cannoreto per ripristinare il percorso, il comune ha preso contatti con la regione toscana. Andiamo adesso invece a Massarosa, successo nel fine settimana, domenica, per iniziativa che ha visto portare in strada una favola di altri tempi. Pinocchio è tornato tra i bambini, vediamo. Voglio proprio scrivere una bella storia che ho qui nella testa, sarà la storia di un ragazzo, no 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 no, anzi, di un bambino, ma di un bambino speciale, un bambino che nel mio libro vivrà tante fantasticamente, sì, perché questa voglio che sia la più bella fiaba di tutti i tempi. Una giornata immersi nelle atmosfere del paese dei Balocchi. Domenica scorsa Massarosa ha ospitato per le vie del centro storico una manifestazione di teatro in strada dedicata a Pinocchio e organizzata dall'amministrazione comunale tramite la commissione Pari Opportunità e assessorata al sociale. Pinocchio, storia di un bambino di legno, questo è il titolo dell'evento che ha riscosso notevole successo. Una giornata da favola, dunque, interamente dedicata al burattino più famoso del mondo. 250 artisti hanno presentato la storia di Pinocchio in 15 stazioni sceniche ambientate su palcoscenici naturali e altri luoghi come giardini, terrazze, vicoli e piazzette. Il pubblico numerosissimo è stato suddiviso in gruppi e guidato da accompagnatori che hanno coinvolto tutte le realtà artistiche di Massarosa come attori, cantanti, danzatori, musicisti e atleti, con il coinvolgimento anche di attori professionisti ed esperti di teatro itinerante. Insomma, un'occasione di democrazia artistica che ha coinvolto i bambini delle scuole con otto piccoli attori a interpretare Pinocchio, scuole di danza e di recitazione. Ottima la direzione artistica e la regia di Paolo Bonanni. Una grande festa per le famiglie e per i bimbi sulla favola di Pinocchio. I bimbi hanno lavorato per tutto l'anno scolastico sul rapporto genitori figli, realizzando dei bellissimi capolavori, dei bellissimi dipinti che sono stati poi inseriti all'interno del percorso. Veniamo adesso allo sport. Tornati in casa, a Via Regge, campioni d'Europa. I vincitori della Coppa Italia del Via Regge Beach Soccer hanno dato il là, proprio nella giornata di oggi, all'Academy, ovvero l'Accademia per i più piccoli che vogliono imparare il calcio in spiaggia. Vediamo il servizio. Dopo la vittoria della Champions League di Big Soccer della Coppa Italia, la formazione via regina del Big Soccer è tornata al Matteo Valenti Beach Stadium in Darsena. Il presidente Giancarlo Carpita ha già preso possesso dell'impianto che ha iniziato con l'Academy di collaborazione di alcuni giocatori, Dario Ramacciotti, Gabriele Goria, Andrea Carpita e Simone Marinaie con i tecnici Massimo Moretti e Massimo Belluoni è iniziata anche l'attività giovanile. Il presidente parla proprio di questo impegno. Noi praticamente da oggi iniziamo l'attività vera e propria allo stadio, quindi ora faremo le ultime rifiniture. Da oggi parte la Beach Academy, parte la vera attività dello stadio, anche perché i ragazzi hanno un paio di giorni di riposo e poi devono pensare subito alla tappa del campionato. La tappa del campionato perché il 16, 17, 18, 19 sono vicini e sicuramente ci sarà anche una tappa in anteprima, cioè una partita in anteprima il giovedì sera, perché il venerdì purtroppo c'è una partita che va in concomitanza con quella della nazionale, quindi hanno deciso di anticipare. Stiamo organizzando questo evento nella migliore maniera possibile, l'abbiamo sempre fatto tutti gli anni, quest'anno abbiamo un carico di responsabilità in più, perché visto i trofei che abbiamo portato è chiaro che dobbiamo impegnarci ancora un po' di più. Dario Ramacciotti è uno dei protagonisti di questi successi, anche lui collabora per portare avanti e far crescere questi ragazzini che possono chissà un domani sostituire loro in prima squadra. Racconto un aneddoto, ero praticamente messo nella parte alta della tribuna, ogni gol che si faceva scendevo le scalinate a tutto foo e a un certo punto mi è toccato smettere e mettermi in prima fila perché altrimenti rischiavo di cadere, ho rischiato un paio di volte, per fortuna abbiamo il bomber che ha fatto 4-5 gol incredibili e ci ha fatto vincere questa coppa insieme agli altri miei compagni. Ancora allo sport, adesso la ginnastica, ottimo lavoro della moto domenica scorsa a Pesaro, la società Via Regina ha conquistato un titolo italiano nella finale del campionato di insieme di ginnastica ritmica, categoria giovanile e due medaglie, un bronzo nell'insieme open ed un argento al criterio giovanile con Daria Gabrielli che si conferma vice campionessa italiana tra le allieve di seconda fascia, tre gare difficilissime ed entusiasmanti, spiega l'allenatrice Donatella Lazzeri, le ragazze hanno dimostrato un altissimo livello di prestazione a conclusione di questa splendida stagione, quindi grande soddisfazione da parte di tutto il team che ringrazia anche la dirigente del liceo sportivo Piaggia di Viareggio per la collaborazione in tutto questo progetto. Ci fermiamo per una pausa ma l'informazione prosegue, rimanete con noi.